eccoci qua siamo ripartiti, questa è Leona alle 7 del mattino, molto bello, la luce comincia ad arrivare piano piano e come potete vedere anche nelle città queste frecciette gialle vicino ai pali oppure ai muri e le cose così stanno ad indicare il cammino si parte da soli come un po di questi giorni insomma poi imbeccavo gli altri dopo e oggi la tappa è più breve come vi dicevo prima siamo senza abbiamo preso quattro ragazzi siamo arrivati non avete capito niente perché l'ultimo aggiornamento era mentre stavo camminando adesso invece siamo guarda come si non fosse italiana in realtà non lo capisce veramente non capisco perché siamo arrivati questo è lo stello abbiamo preso questo qua devo dire comunque carino è sempre molto economico penso faccia parte della parte dei stelle privati perché qui sono tutti privati quella parte centrale dove stanno tutti gli altri poi se non ve la faccio vedere meglio di qua dove sono le docce eccetera però non posso filmare meno di qua che stanno facendo la doccia però il posto diciamo molto è normale insomma avete visto pure action man di là devo dire molto bello qui non ci sono stelle tipo alberghe pacocchiali cose così non credo neanche i municipali ma tutti privati c'era solo uno ma il municipale di Boadio del Camino ho capito che non tutti i municipali effettivamente sono veramente così quindi abbiamo preso questo perché se eravamo comunque tutti insieme ecco la cosa è quella eravamo tutti insieme quindi abbiamo preso questo perché potremmo insomma stare un pochettino così quindi niente male cosa mai dopo se faccio un giro perché da prima cosa sul mercato cercherò di farvi vedere qualcosa del paesino ragazzi fate appassione tra montaggi qua stiamo giocando a come si chiama Master? ah memory, memory il giro è quello dei paesi siamo... tutti quanti qua o'i altri che stanno da un'altra parte e Larry già si sta dappertutto chieda con noi no registrata su lui che va in... ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh la storga e poi riprendiamo bella Felic oh è vero? waiting, waiting, waiting si è sempre così è vero sono stati Ok, ragazzi, fai.